Mimmo Sabatelli, la cessistica Campobasso ed il CUS Molise hanno organizzato per domani un'intera giornata dedicata allo sport. Si parte la mattina con il convegno La Scienza al servizio dello sport e poi nel pomeriggio per gli amanti della Palla Spicchi e non solo un'amichevole femminile molto importante. Sì, come hai detto tu quest'anno con questa collaborazione si sta cercando fin da subito di fare progetti importanti e questo già vede in questa prima giornata sicuramente qualcosa di strepitoso perché la mattina sarà un convegno tenuto da persone di altissimo livello. Verrà sicuramente il professor Laguardia che è il vicepresidente della federazione, ci sarà il professor Guerra, il professor Calcagno, Matteo Panichi preparatore atletico della Nazionale Femminile A e poi ci sarà in chiusura Andrea Capobianco che è il nostro CT della squadra femminile responsabile di tutto il settore giovanile della Palacanestro. Quindi sicuramente già dalla mattina è un programma ricco soprattutto anche per i ragazzi di Scienze Motore, per gli studenti perché ripeto l'argomento è un argomento importante dove come noi stiamo dicendo da giorni al centro della nostra attenzione ci sono i ragazzi, quindi ecco perché è il titolo della scienza per lo sport, al servizio dello sport. Per quanto riguarda poi il pomeriggio, dato che ci sono molti esponenti del basket femminile qui in Molise, tu ne sei anche una testimonianza alle 18.30 al Pala Unimo, la Pala 2 per Battipaia di Chenapoli, due formazioni che diranno sicuramente la loro nel prossimo campionato di serie A1 femminile. Sì sicuramente, questa poi è l'ulteriore sorpresa che siamo riusciti a organizzare per gli amanti della Palacanestro, riuscire a portare due formazioni di serie A qui a Campobasso nella bella struttura del Pala Unimo, sicuramente è un qualcosa di importante, questo dobbiamo ringraziare sicuramente tutti quelli che ci hanno dato la mano con Andrea Capobianco che fa tanto per la nostra regione, quindi riuscire a portare queste due formazioni, queste personalità federali a Campobasso è un motivo di orgoglio e mi auguro che domani ci sia tanta gente, ci siano tanti ragazzi per vedere insomma una Palacanestro con una Palacanestro veramente di alto livello. Un'ultima domanda, anche il Rettore naturalmente Valmieri ha dato immediatamente l'ok per questa manifestazione che avvicina per gli appunto gli studenti attuali però anche, perché no, quelli futuri dell'Università degli Studi del Molise. Sì sicuramente, ripeto, questo è un programma importante che vede appunto l'Università a fianco dello sport, quindi sicuramente domani ci sarà la partecipazione all'apertura del Rettore, ci fa molto piacere e sicuramente questo credo sia possa essere un inizio di un qualcosa di un percorso molto importante.